Quali sono le strategie, quali sono fondamentalmente le innovazioni in questo Cosmoprop e come si fa? Il nostro successo lo dobbiamo moltissimo, non soltanto a noi del management, come dici tu, ma senz'altro anche al fatto che abbiamo dei partner molto validi, abbiamo delle persone che stanno insieme a noi in maniera appassionati, siamo veramente un bel gruppo. Quest'anno, oltre alle novità che abbiamo già presentato qualche mese fa a Roma, si sono aggiunti per il Cosmoprop altre ottime novità. Per esempio un gel molto particolare che noi abbiamo chiamato Royal Gel, sono colori che possono essere stesi in maniera molto facile, una sola stesura, perciò molto rapidi nell'asciugatura, nella catalizzazione e diventano immediatamente lucidi, perciò si salta totalmente il passaggio della lucidatura. Sono partiti adesso 30 colori sui già oltre 600 colori che Crystal Nace offre alla sua clientela tra Crystal Lac, Color Gel tradizionali che sono perlati, metallizzati, glitterati, insomma c'è veramente di tutto e di più. Continua evoluzione però io vorrei l'accento un pochettino più pesante su un fattore di successo dell'azienda che è la formazione. Il nostro campo è un campo ambito, cioè un campo dove sono sette giorni di corso molto molto approfondito, un po' anche pesante in termini di lavori, perché le persone vengono seguite da 10 master international, tra cui la campionessa mondiale Gabriela Kovac, ci saranno però, perciò queste persone saranno seguite in maniera molto molto attenta affinché la loro formazione sia completa, seria e continuativa perché anche dopo il campo ci saranno dei richiami, delle possibilità di ulteriori approfondimenti.